amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati due notizie simbolo per iniziare la nostra consueta puntata del martedì sui principali temi di politica ed economia dopo 76 anni la piaggia ferma la produzione dell'ape un veicolo storico veicolo che verrà prodotto in india e poi le mancate rivalutazioni delle pensioni che crescono di un offensivo euro e 80 praticamente il costo di un caffè mettiamo macchiato questi sono due temi sono proprio due notizie simbolo con le quali inizieremo una puntata molto nutrita al nostro appuntamento del martedì che questa settimana vede con noi gilberto trombetta ciao gilberto ben trovato carlo ben trovati i nostri spettatori ricordo portavoce del fronte per la sovranità popolare giornalista economico e matteo brandi ciao matteo ciao carlo ciao gilberta tutte le persone che in questo momento ci stanno ascoltando della segreteria a matteo brani della segreteria nazionale di pro italia matteo vorrei proprio iniziare da te sentire dopo magari faremo le analisi più strettamente economica io le ho definite due notizie simbolo cioè l'ape della piaggio è proprio uno degli emblemi proprio del boom economico no dell'italia sì l'ape della piaggio assieme alla vespa c'erano questi due tra virgolette insetti che aiutavano l'ecosistema di una economia italiana che aveva vissuto un grande boom economico a dispetto di tante previsioni l'italia si seppe rialzare con grande forza con grande ingegno con fantasia con anche con spregiudicatezza cioè noi non dobbiamo mai dimenticare che l'italia usciva distrutta dal secondo conflitto mondiale e riuscì a far conoscere al mondo non solo il made in italy ma anche se vogliamo un sistema misto in cui lo stato era sì imprenditore ma c'era la possibilità di fare libera impresa e in quel momento l'italia veramente dimostrò tutto il suo valore al mondo ecco c'erano sia la vespa che la che l'ape l'ape della piaggio che mostravano due volti dell'italia la vespa era un po il volto dell'italia sbarazzina l'italia che voleva un attimino riprendersi in mano la propria vita quindi gli italiani che andavano in vacanza la dolce vita se vogliamo il modo italiano di intendere il futuro dall'altro la l'ape della piaggio rappresentava un po coloro che lavoravano nel primario nel secondario coloro che magari avevano un campo da coltivare l'artigiano il muratore si vedono ancora in giro oggi le api che che portano magari i frutti di una di un campo oppure i prodotti di un di una bottega ecco quell'italia lì purtroppo ce la stanno portando via ce la stanno svendendo e la storia della dell'ape della piaggio è molto triste perché qui non è solamente un vedere ancora una volta una delocalizzazione in un altro paese poi ci sarebbe tanto da ridere sull'aspetto green perché cosa ci viene detto che la piaggio non può più soddisfare quelle che sono gli stringenti regole per la per l'ecosostenibilità che vengono richieste dall'unione europea e dunque delocalizza in india l'india un paese piccolo piccolo da un miliardo e mezzo di persone più di un miliardo e mezzo perché ha superato la cina e quindi c'è da chiedersi come in che modo produrre la piaggio in italia metta in pericolo il pianeta invece farlo in india con un costo del lavoro infimo rispetto a noi sappiamo bene perché invece non lo faccia la realtà è che stiamo perdendo ancora una volta una parte importante della nostra identità oltre che della nostra industria in nome del green e ancora una volta chi ci governa non fa nulla per salvare quest'ennesima parte di noi che se ne sta andando per sempre la piaggio è solamente un esempio ne sono successe tante altre di queste cose negli ultimi anni delocalizzazioni svendite e privatizzazioni che sono finite magari all'estero ecco tutto questo purtroppo è una china che quanto pare nemmeno questi ultimi governanti non ci può sorprendere hanno intenzione di risalire. Gilberto penso che con te andremo anche più sulla sull'aspetto proprio strettamente economico. Prego? Però in questo caso vorrei soffermare su una cosa perché i numeri sono importanti figuratevi io quasi tutti i miei discorsi di appoggio su dati indicatori e quant'altro però i simboli sono più importanti e sicuramente più potenti dei numeri ecco questo è un caso in cui il simbolo prevarica addirittura i numeri cioè l'ape piaggio come ha detto Matteo rappresenta l'Italia del trentennio glorioso l'Italia della rinascita l'Italia che dopo la sconfitta della seconda guerra mondiale dopo essere diventato un paese a sovranità limitata stupisce il mondo e fa qualcosa che nessuno era stato in grado di fare in quelle proporzioni e quindi è un simbolo e poi anzi in questo caso forse il fattore economico lascia il tempo che trova perché è vero che oggi come oggi l'ape piaggio è ancora vendutissima proprio e soprattutto in india da tanti anni è vero che l'ape piaggio il grosso della sua produzione ce l'aveva già in india è altrettanto vero che per fortuna stando alle dichiarazioni iniziali lo stabilimento di pontedera cioè quello l'unico italiano che ancora produceva l'ape piaggio verrà riconvertito non chiuso quindi non dovrebbe uso il condizionale esserci perdita di lavoro che poi è quello che ci interessa a noi vediamo a che tipo di produzione dell'ape piaggio verrà riconvertito è vero però che questo è un simbolo dalla doppia valenza cioè rappresenta benissimo sia il vincolo esterno che ci sta uccidendo ma ancora di più quello quell'interno sul vincolo esterno ha già detto matteo cioè l'ape piaggio sposta la produzione la trasferisce del tutto perché già in parte c'era in india perché in italia e quindi nell'unione europea ci sono dei vincoli in parte dovuti alla transizione energetica che sta uccidendo tutto il settore manifatturiero industriale europeo e quindi soprattutto tedesco italiano e in parte per la normativa in fatto di sicurezza cioè sostanzialmente l'ape è ancora un motore a due tempi immaginate montare un abs o un airbag su un ape piaggio no dovresti fare dei lavori di ricerca e di investimento che spetterebbero effettivamente come dire alla proprietà al management per attuare un prodotto che ormai ha più di 70 anni cosa che non è stata fatta e io ci tengo però a porre l'accento su un'altra cosa è proprio sulla proprietà italiana attuale ancora della piaggio e quindi anche dei produttori dell'ape perché è il perfetto esempio di quello che noi spesso raccontiamo qua è vero che l'italia ha un grandissimo problema di vincolo esterno paese a sovranità limitata alla sconfitta della seconda guerra mondiale al trattato di cassibile trattati di pace ci abbiamo aggiunto il trattato di maastricht e quello istitutivo dell'euro quindi abbiamo fatto peggio ma noi diciamo sempre che effettivamente ci sono altri paesi nell'unione europea che hanno l'euro che non sono andati male come l'italia perché perché sostanzialmente al di là delle normative europee che dovrebbero essere comuni hanno cercato comunque di tutelare di perseguire l'interesse nazionale cosa che non è mai stata fatta dalla classe dirigente quindi politica imprenditoriale italiana questo è un perfetto esempio perché alla guida del gruppo piaggio ci sta la famiglia con la ninno oggi ci sono i figli visto che roberto non c'è più però la storia importante perché per chi ha poca memoria roberto colaninno che fino a pochi mesi fa finché era ancora in vita era il proprietario il dirigente della piaggio è è quello per chi non ce lo ricordano a parte che ha contribuito clamorosamente alla distruzione della olivetti che decise che l'elettronica non era un settore importante per la olivetti è quello della scalata telecom che acquistò facendo debiti la telecom riversando i debiti con cui la acquistò nella stessa telecom e contribuendo al suo forte indebitamento e ridimensionamento era la guida dei capitani coraggiosi che fecero carne di macello di alitalia ok cioè per capire ci sta un vincolo interno rappresentato questa classe dirigente che è peggiore del vincolo esterno quindi ecco è la famiglia colaninno che sono questi che abbiamo raccontato noi oggi la guida è passata al figlio matteo colaninno già tre volte parlamentare del pd e responsabile nazionale economico del pd perfetto capito dai massimi puntori è un teorema proprio quindi ecco era inevitabile l'ultimo chiodo sulla bara della produzione dell'ape piaggio perché è una famiglia che storicamente ha fatto solo danni per questo paese e che hanno militato nel partito che si è speso più di altri che è difficile a farsi per la distruzione di questo paese e della sua industria sì è molto importante e utile questo excursus storico su colanino la 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 famiglia colanino dicevo all'inizio matteo che l'altro un'altra notizia simbolo di questi giorni sono le mancate rivalutazioni delle pensioni che appunto crescono di un euro 80 direi che ci si può tranquillamente offendere di una di una cosa del genere e forse anche qualcos'altro si crescono di un nulla potremmo dire meno di due caffè perché due caffè non ci si arriva neanche visto che ho detto un caffè macchiato ho detto prima un caffè macchiato si forse un caffè macchiato già se lo prendi al forse al forse al tavolo forse al tavolo di più già se lo prendi al centro non ci arrivi ecco per dire però si è proprio il discorso che non possiamo in alcun modo sorprenderci perché siamo perfettamente in linea con quelle che sono le politiche che abbiamo visto in questi ultimi 20 e di 30 30 anni il discorso che coloro che dovrebbero alzare la testa e alzare la voce lo fanno ad intermittenza a seconda di chi sta al governo questo è il problema questa è l'ipocrisia perché le associazioni di categoria per non parlare dei grandi sindacati che sono stati in silenzio quando è stato attaccato quando sono state attaccate le pensioni al grido di mettiamo in ordine i conti e questa attenzione non è venuta improvvisamente con l'entrata dell'italia nell'euro già gente come guido carli e monti a inizi degli anni 90 dicevano dobbiamo aggredire le pensioni e i salari perché non possiamo permetterci questo questo aiuto ai lavoratori ai pensionati perché è perché sennò i conti non tornano vedete che alla fine il refrain era sempre lo stesso non è una cosa che si sono inventati magicamente intorno al 2000 il discorso è che poi tutto questo è diventato un culto un culto che nessuno ha poi messo più in discussione ecco io chiamo al banco di imputati innanzitutto i grandi sindacati i quali in questo momento si stanno facendo un po di chiasso per per strada ma il discorso è che sono stati in silenzio e complici quando con monti e draghi si è continuato alla grande su questo su questo percorso vi ricordate la camusso a cena pranzo ma comunque era lì a mangiare assieme al signor monti vi ricordate quando monti disse non si è mai visto nessun altro paese che mentre venivano sposate delle politiche di massacro di 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 austerità totale i grandi sindacati facessero manifestazioni di una due ore al massimo giusto per così per fare presenza per strada per la strada quindi il discorso è che vogliamo ricordarci la pacca sulla spalla di mario draghi ci stavo giusto arrivando perché io credo che quella quella foto quella foto rimarrà nella storia visto che mi sa che questa sarà un po la puntata dei simboli abbiamo parlato della dell'app abbiamo parlato della vespa abbiamo accennato all'italia non a caso proprio in questi giorni si parla dell'ok da parte della dell'unione europea a quello che c'è stato venduta come una fusione ma non è neanche non è nient'altro che un'ennesima acquisizione straniera ai danni di ciò che rimaneva della nostra compagnia di bandiera luftanza ita highways e anche qui siamo di fronte a un simbolo quella foto di draghi con la mano sulla spalla di landini entrambi con la mascherina in un momento insomma che abbiamo tutti vissuto e ricordiamo ecco dall'idea del perché in questo paese chi doveva alzare la voce la testa non l'ho affatto loro sono innanzitutto i primi responsabili anche di questa mancetta spacciata per l'aumento delle pensioni si cosa ne pensi gilberto di questo beh io mi ricordo senza tornare indietro fino a berlusconi ma insomma anche il suo erede tagliani che fino ancora poche settimane fa no porteremo le pensioni minime a mille euro ecco le hanno portate da 614 virgola 77 centesimi di euro a 616 quindi hanno spostato le virgole ovviamente non è una novità la decisione non è stata presa adesso ne parliamo oggi perché è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto che attuativo di una decisione già presa tra l'altro ricordo poco più di un anno fa quella conferenza stampa in cui giorgetti annunciò un taglio fortissimo non di per sé delle pensioni ma delle rivalutazioni delle pensioni quindi un taglio delle pensioni reali come quando parliamo dei salari reali cioè vuol dire che il costo della vita aumenta più di quanto non aumenta poi la retribuzione se parliamo di salari o di pensioni quindi è stata tagliata la rivalutazione delle pensioni al costo della vita ovviamente non solo delle pensioni quelle cosiddette d'oro no quelle particolarmente alte ma anche di quelle medie non altissime mille 1200 euro al mese netti stiamo parlando in questo caso e sono stati fatti i dettagli che giorgetti ha annunciato che avrebbero fatto risparmiare al governo almeno 10 miliardi di euro in tre anni che è un'enormità fatta sulle spalle dei pensionati tenete conto però che la programmazione è pluriennale non riguarda solo un triennio e si parla addirittura di 37 miliardi di euro tra il 2023 e il 2032 ecco è una cifra abnorme ripeto non fatta sulle spalle di o a spese di pensioni particolarmente alte specificando sempre che ormai col metodo attuale che è contributivo se una pensione è particolarmente alta vuol dire che tu hai versato i contributi per percepire quella pensione particolarmente alta quindi neanche in quel caso sarebbe giustificato un taglio con la mannaia della rivalutazione al costo della vita della pensione conferenza stampa di giorgetti che ricordava moltissimo quella della fornero in cui annunciava il taglio delle pensioni e delle rivalutazioni tra l'altro delle pensioni introdotte con la riforma sacconi prima ancora che da quella fornero tanto per ricostruire un po la storia la 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 l'unica differenza tra giorgetti e la fornero e che la fornero versò la classica lacrima di coccodrillo cosa che giorgetti non ha fatto a proposito scusami disilberto scusami se ti interrompo a proposito visto che come diceva proprio matteo probabilmente questa è la puntata dei simboli anche quella è una scena simbolica dove la fornero al limite è arrivata a fare una una lacrima no forse mettiamo che forse che era abbastanza forse ripeto sentita ma l'altra immagine simbolo è mario monti che si gira verso di lei e proprio con un'aria interrogativa dice cosa ha questa da comun da commuoversi non so se non so se uno come monti conosce la parola commozione ma insomma però è un'immagine veramente il suo sguardo abbastanza stralunato cioè nel senso colpito da questa reazione della fornero per lui inconcepibile no? Esatto Giorgetti si è limitato a dire che è una scelta che è che gli pesa che avrebbe voluto non farlo ma d'altronde come si dice ormai da più di 30 anni o come loro dicono da meno 30 anni non c'è alternativa cioè questo dobbiamo fare dobbiamo tagliare le pensioni perché ce lo chiede l'Europa non possiamo fare altrimenti. Senti Matteo a proposito di scioperi come è andato a tuo parere la settimana scorsa lo sciopero indetto dalla CGL ma non lo so c'è già i sindacati ci pensano di loro no disinescarsi ad autodisinescarsi poi interviene addirittura una figura come Salvini che dice gli scioperi non vanno bene perché creano disagi e quindi bisogna limitarli il più possibile anche come orario di manifestazione vabbè lo scopo dello sciopero è creare disagio no se non crea disagio a chi se lo fila uno sciopero. Beh guarda è uno scontro tra titani da una parte Salvini dall'altra Landini uno scambio veramente tra grandi statistiche da una parte un personaggio Salvini che ormai ci ha abituato al peggio ricordiamo ad esempio il codice della strada Salvini appena passato che è una mannaia sui sui automobilisti che con la scusa della sicurezza viene ancora una volta stretto ancora di più il capio sulle nostre libertà personali che è un po quello che fa anche il centrosinistra solamente che dall'altra parte ti parlano del green e poi dall'altra abbiamo questo Landini che non è nient'altro l'ennesima metastasi di quel grande tumore chiamato partito democratico non ci giriamo tanto intorno cioè quest'uomo non ha a cuore minimamente quelli che sono gli interessi e i diritti dei lavoratori perché perché mentre era al governo qualcun altro magari vicino alla sua bandiera o che comunque lui assieme a tanti altri politicanti perché questo fa Landini politica giudicava come intoccabile ogni riferimento a Mario Draghi è puramente voluto ecco in quel momento noi abbiamo visto i sindacati italiani in silenzio attenzione io parlo di sindacati di grandi sigle sindacali italiani perché poi ci sono dei sindacati più piccoli che il loro lavoro lo fanno non sono sotto i riflettori però il loro lavoro lo fanno ma i grandi sindacati invece hanno già dimostrato di essere lontani anni luce dagli interessi dei lavoratori dove erano quando è passato il pacchetto treo dove erano quando è stato attaccato l'articolo 18 dove erano quando è passato il job act dove erano quando quello che era un diritto il lavoro sancito nella nostra costituzione è diventato di volta in volta una chimera quasi un bonus una concessione dove erano durante il green pass sono domande che a cui si può dare una semplice risposta erano dalla parte del potere sono sempre dalla parte del potere e del pensiero unico che in campo economico gilberto l'ha ricordato prima il famoso tina there is no alternative fondiato non a caso dalla thatcher e ritorna sempre lì cioè lo stato funziona deve funzionare come un'azienda puntare al pareggio di bilancio o ancor meglio andare in avanzo primario quindi spendere meno di quanto in cassa e questo si traduce in un impoverimento continuo della cittadinanza i sindacati in questo ovviamente sono stati a mio avviso assolutamente la stampella di questo attacco alla nostra alla nostra ricchezza e al nostro lavoro tra l'altro gilberto è stato interessante vedere almeno nei giornali insomma come ha reagito il mainstream a no parlo di giornali la comunicazione perché ovviamente è la comunicazione che crea mediatica che crea nella nelle persone la percezione della realtà no sempre non so vedevo che repubblica non so neanche io se erano contenti o scontenti di questo di questo sciopero non sapevo forse non lo sapevano neanche loro se essere contenti o scontenti no perché insomma ufficialmente fanno come riferimento un partito di sinistra che però un partito di sinistra è dalla parte del potere no è dalla parte di chi ha il vapore no il padrone del vapore come si diceva guarda carlo ancora una volta credo che matteo abbia perfettamente centrato il punto è il problema degli scioperi per i diritti dei lavoratori per i salari per la sanità è che ce ne sono stati troppo pochi non troppi il punto è che gli scioperi di questi giorni non riguardano quello che viene dichiarato cioè non è uno sciopero che chiede più diritti ai lavoratori chiede salari più alti o chiede più investimenti per il sistema sanitario nazionale è uno sciopero contro un governo che non vede al potere il centro sinistra cioè il pd molto banalmente perché quando negli ultimi anni negli ultimi dicenni è stata fatta carne di macello dei salari dei diritti dei lavoratori con una sequenza impressionante di riforme regressive del mercato del lavoro alcune delle quali ricordate da matteo insomma pacchetto 3 u job sat riforma fornero che noi ricordiamo sempre per le pensioni ma riguardava anche il mondo del lavoro decreto poletti decreto sacconi si sono limitati massimo a mezz'ora di sciopero nel fine settimana veramente ma non per creare incomodi ma proprio per non dare fastidio in questo caso è l'esatto contrario quindi un sindacato che di fatto ha avallato tutte le porcherie contro i lavoratori perché venivano dal partito polivo che rappresentava la loro parte oggi non è credibile quando protesta non tanto per difendere quei valori che ha abbandonato negli ultimi decenni ma perché c'è un governo che non rappresenta la loro parte politica anche se sostanzialmente perfettamente in linea con le politiche sostenute di tagli di austerità di privatizzazioni sostenute tanto dai governi di centro sinistra tanto dai cosiddetti governi tecnici a ulteriore riprova se mai ce ne fosse bisogno che non esistono governi tecnici perché sono sempre comunque governi politici cioè il governo meloni è in perfetta continuità con governi di centro sinistra o con governi tecnici come quello draghi o monti per capirci però non portando il vessillo arcobaleno del pd allora i sindacati si sentono in dovere di attaccarlo ma è un attacco di facciata che nulla a che vedere con la sostanza ecco matteo tu che sei uomo di comunicazione vorrei riportare l'attenzione proprio sud esempio repubblica no che sabato non sapeva neanche lei se essere contenta o scontenta di quello sciopero lì si lo domandavano forse siamo contenti o non contenti perché i nostri referenti sono più dall'altra parte che da quella originaria quel punto no si beh sono delle guerre interne allo stesso identico mondo il che rende la cosa ancora più ridicola hai detto proprio bene tu è a livello comunicativo repubblica spesso ultimamente si si trova un po in difficoltà pensiamo ad esempio la questione israelo palestinese repubblica difende tel aviv ma sa di avere una buona parte diciamo dei di quel mondo ad esempio della sinistra antagonista che è un'altra emanazione del partito democratico che però sulla questione israelo palestinese è di gran lunga più come dire tende di più alla difesa del dei diritti dei palestinesi quindi ecco vanno un attimino in confusione oppure pensiamo ad esempio la questione di quello che sta accadendo in siria ultimamente vediamo dopo anni di silenzio usare la parola jihadista vicino a quella ribelli no è la prima volta perché prima si parlava solo di ribelli in siria adesso cominciano a parlare di ribelli jihadisti perché non possono più negare la natura di taglia goli di coloro che si stanno battendo contro il governo di assad in siria quindi sono quei cortocircuiti che fanno molto ridere quando poi riguardano le guerre interne al partito democratico li fanno veramente sganasciare dalle risate se non ci fosse non fosse che poi di mezzo ci vanno i diritti dei lavoratori che ripeto non rientrano negli interessi nelle preoccupazioni di gente come landini assolutamente assolutamente nella proposta di diritti dei lavoratori e di sindacati sta per iniziare quella sì una grossa manifestazione in germania dei lavoratori della volkswagen e qui è da aprire un capitolo proprio sulla l'andamento della della produzione dell'industria tedesca che va malissimo ed è in costante va malissimo ma è in costante peggioramento e dove in germania invece a differenza che in italia almeno le intenzioni quello che hanno dichiarato i sindacati che li sembra si facciano piuttosto sentire andremo avanti ad oltranza lì poi ci sono c'è una situazione come dicevo perché anche altre industrie automobilistiche sono in gravissima crisi anzi un po tutte le industrie tedesche c'è la un colosso della dell'acciaio la thyssen krupp che sta licenziando 11.000 dipendenti giusto per citare i casi più più grossi ma è una situazione generalizzata matteo ma la germania non fa altro che raccogliere ciò che ha seminato la germania ha imposto al resto del vecchio continente il proprio modo di intendere l'economia e l'industria quello ordo liberista fondamentalmente l'idea che si debba tenere l'inflazione bassa attaccando i salari questo poi proviene diciamo anche dalla dall'esperienza storica dei tedeschi quali sono rimasti scioccati dall'esperienza della repubblica di weimar quindi diciamo che nel loro nella loro ottica il terrore dell'inflazione ha diciamo un fondamento storico sociale se vogliamo il discorso è che questo non lo si può applicare ad economie del tutto diverse come ad esempio quella nostra che è fatta di piccole e medie imprese in più aggiungiamo che in germania abbiamo visto cose come l'arts 4 se ne parla poco ma in germania sono passate delle delle riforme che hanno attaccato appunto gli stipendi medi dei lavoratori marcia c'è di più la germania ha goduto oltre che dell'assenza dell'oscillazione del cambio all'interno del mercato unico europeo che gli ha permesso di mangiarsi vivo gli altri mercati ha goduto dell'afflusso di gas a presso più contenuto non bassissimo ma più contenuto da parte della federazione russa era chiaro già da più di un anno a questa parte e mi ricordo che proprio i grandi sindacati tedeschi scrissero a sciolze dicendo guardate che senza gas russo andiamo a gambe all'aria era chiaro che senza l'apporto di energia da parte della federazione russa l'intero comparto industriale soprattutto quello più energivore ovvero quello dell'automotive tedesca non avrebbe retto il colpo e poi c'è un altro chiodo che è stato piantato nella bara dell'industria tedesca ovvero la transizione green la transizione green e per cui i tedeschi in realtà erano già propensi ma nel momento in cui è venuta meno l'energia da parte della federazione russa e nel momento in cui c'è chi dall'altra parte dell'oceano dopo aver fatto saltare un nord stream 2 ha anche tentato di chiudere i ponti con l'arrivo di materie prime da parte della cina quelle che servono poi per tirare fuori le batterie delle auto elettriche e a quel punto era facile che si che si sarebbe arrivati a un patatrack in questo momento i grandi sindacati tedeschi sono in piazza credo che porteranno avanti con forza questa 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 protesta anche perché davvero la germania sta messa molto male stanno licenza perché erano erano abituati bene voglio dire anche erano abituati molto bene e infatti io ripeto vedete non sto versando alcun tipo di lacrima io sulla germania la penso un po come andreotti e ancor prima come petrarca che diceva tra noi la germania ci sono le alpi perché ben pensò la la natura di porre questo limite tra noi e loro ecco il discorso è che tutto questo era facilmente prevedibile e c'è qualcun altro che è ugualmente malato in questo momento in europa magari ne parleremo dopo ovvero la francia il discorso è che questi due pilastri dell'unione europea che nasce attorno alla francia e la germania al blocco franco tedesco in questo momento sono i grandi malati d'europa e di questo se ne approfitteranno e chiudo le opposizioni interna a questi grandi paesi a partire dalla fd in germania e dalla le pen in francia forse anche dalla bsv la il partito bündnis sarah wagenet e lo vedremo nelle elezioni che tanto sono a febbraio vedremo cosa succede gilberto sulla germania immagino se ti conosco bene e ti conosco bene avrai anche dei numeri beh sì perché è comprensibile visto che la volkswagen ha annunciato di chiudere tre stabilimenti quindi sostanzialmente facendo perdere il lavoro a migliaia di di dipendenti forse decine di migliaia eh tenete conto che rispetto alle richieste sindacali che fino a poco tempo fa chiedevano aumenti almeno del 7 per cento no per il rinnovo del contratto hanno detto no guardate se mantenete i livelli di occupazione rinunciamo all'aumento del 7 per cento peccato che dall'azienda abbiamo detto no no eh noi se volete mantenere il livello occupazionale dovete tagliare del 10 per cento i salari per farvi capire che distanza si è creata tra i sindacati e le aziende ma non è solo questo perché la forda ha annunciato 4.000 sub in europa eh soprattutto in germania e nel regno unito la mercedes è un'altra azienda che se la passa malissimo e ha previsto di tagliare i costi per diversi miliardi di euro sapete benissimo che quando un'azienda dice di voler tagliare i costi vuol dire i posti di lavoro e se parliamo di migliaia di euro basta sostituire la la consonante iniziale e siamo a posto è sempre così non è mai efficientamente vuol dire tagliare posti di lavoro ok ma è molto semplice se parliamo di diversi miliardi di euro vuol dire che ancora una volta parliamo di migliaia di posti di lavoro la bosch prevede di lasciare a casa 5.500 persone in tutto il mondo neanche vi dico concentrate dove e pure fare un lungo elenco di altre aziende insomma quindi la germania sta attraversando adesso quello che l'italia passa da trent'anni circa anzi da più di trent'anni quindi noi una volta tanto possiamo fare da spettatori non perché ce la passiamo meglio ma perché noi ci siamo portati molto avanti col lavoro rispetto a loro vediamo come agirà adesso la scusami gilberto possiamo stare a vedere fino a un certo punto perché siamo nella catena del valore tedesca quindi diciamo la cosa ci tocca sì sì però infatti noi raccontiamo spesso l'aumento della dell'accelerazione della deindustrializzazione italiana negli ultimi due tre anni no e io spesso mi rispondo è ma certo se va male l'industria tedesca è normale che vada male quella italiana però io adesso non però se fosse così vi univoca la cosa vuol dire che quando va bene l'industria tedesca va bene quella italiana ecco io vorrei ricordare a chi da questa lettura un po' semplificata che dall'introduzione dell'euro nel 1999 al picco massimo raggiunto di produzione industriale a germania cioè 2017 la produzione industriale tedesca tra il 99 e il 2017 è aumentata del 41 per cento nello stesso lasso di tempo quella italiana è diminuita del 12 per cento quindi è vero che c'è un'interdipendenza però non può essere letta semplicemente così perché altrimenti quando la produzione industriale tedesca cresce a dismisura crescerebbe a dismisura anche quella italiana invece ci sono ovviamente altri fattori che noi spesso raccontiamo nessuno ha privatizzato come noi nessuno ha tagliato la spesa pubblica come noi nessuno ha liberalizzato il mercato del lavoro come noi e quindi vai peggio anche quando gli altri vanno meglio ok quindi non è che la lettura di questi tre anni di deindustrializzazione accelerata dell'italia può ridursi al fatto certo va male la germania andiamo male anche noi perché ovviamente è molto più complessa la cosa più articolata soprattutto perché noi ci deindustrializziamo lentamente ma senza freni da almeno 30 anni ok quindi è ovvio che adesso che va male anche la germania tu hai accelerato ma non è che quando la germania andava bene anzi benissimo perché un aumento del 40 per cento in 20 anni è un aumento mostruoso non è che quando andavi bene tutti stavi già deindustrializzando anche prima ecco questo ci tengo a dirlo poi giustamente anche la germania ha fondato questo modello centrato sull'export sulla compressione della domanda interna ha ricordato bene matteo prima le riforme art 4 i mini job e cioè insomma non è che i lavoratori tedeschi se la siano passata benissimo però oggi i lavoratori italiani stanno peggio di quelli tedeschi cioè se noi prima dell'unione europea avevamo un mercato di lavoro più tutelato quindi con lavoro più sicure e salari tutto sommato migliori a parità di potere di acquisto ovviamente tra i due paesi oggi noi abbiamo fatto così tante riforme che oggi il mercato del lavoro italiano è meno tutelato di quello tedesco che partiva avanti a noi avendo fatto quelle riforme prima di noi ok quindi è normale che adesso la situazione si stia scaldando in germania ma o si cambia il modello economico lo cambia la germania ma noi dovremmo pensare a noi stessi oppure non c'è soluzione perché come ha ricordato matteo la loro modello economico centrato sull'export aveva un grandissimo pilastro anzi due la compressione della domanda interna quindi dei consumi quindi dei salari e l'energia a basso costo proveniente dalla russia gli americani gli hanno fatto santare il gasdotto nostrim comunque gli hanno detto voi energia a basso costo dalla russia ma è più certo in più c'è la transizione verde che ovviamente aggrava un problema quindi è un insieme di fattori che si sommano anche perché la cina molto intelligentemente sulla transizione energetica quindi sui motori elettrici e batterie si è portata avanti cioè almeno sta vent'anni in anticipo rispetto all'europa non solo sullo sviluppo tecnologico di quel settore ma anche sull'approvvigionamento delle materie prime cioè avendoci puntati seriamente per primi loro si sono accaparrati non solo il know how sviluppandolo in realtà più accaparrandoselo ma anche le materie prime quindi tu come puoi pensare di andare a competere con colosso come la cina a vent'anni di ritardo e senza prevedere l'interprevedere l'intervento pubblico è ovvio che in suicidi annunciato che è un'economia di mercato ma dove c'è un forte intervento pubblico e quindi si gioca ad armi oltretutto ad armi impari comunque voglio dire e matteo avevi aggiungere qualcosa potrebbe starci una una frase tipo germania chi di euro ferisce di euro perisce in prospettiva sì anche se come giustamente ha ricordato gilberto la germania non ha mai fu non ha mai funzionato come una locomotiva sai c'è stato raccontato la storiella della locomotiva la locomotiva dovrebbe trainare gli altri vagoni non è mai stato questo la germania ha fatto i suoi interessi lo ha fatto schiacciando gli interessi altrui ricordiamo quello che è accaduto in grecia non c'è stato alcun tipo di fratellanza europea nei confronti di atene da parte di berlino né di parigi e in misura molto minore da parte nostra perché anche noi eravamo coinvolti ma in maniera molto minore rispetto ad esempio alle banche francesi tedesche che è insomma verso cui lo stato ellenico era parecchio esposto no ricordate quello che avvenne col mess col massacro letteralmente dei greci e la loro umiliazione quindi questo non dobbiamo mai dimenticare la germania ripeto raccoglie ciò che ha seminato e quello che ha fatto la cina prima tu dicevi la cina intelligentemente si è preparata per molto prima a questa transizione il discorso è che la cina cammina sul tappeto rosso dell'idiozia ideologica nell'unione europea e voi immaginate poi immaginate di far parte di una ora faccio una diciamo una metafora che va presa un po con le pinze ma immaginate che vi sia una civiltà che è armata di armi fatte di bronzo no e decide di puntare sulle armi fatte in ferro e decide di farlo dichiarando guerra a un'altra civiltà che è letteralmente seduta su una miniera di ferro è una roba oltremodo demenziale perché tu letteralmente hai dato modo ai tuoi avversari di avere tutto per mangiarti i cinesi si sono preparati molto prima a questa transizione noi stiamo ci stiamo deindustrializzando esempio ad esempio della dell'ape piaggio proprio in in onore di questa che a tutti gli effetti un'ideologia e quindi un doppio suicidio una doppia di faccia li stiamo facendo giocare facile insomma ecco quello il concetto è il concetto delle arti marziali cioè i cinesi usano nient'altro che il concetto delle arti marziali ovvero tramite l'uso della leva utilizzano la forza dell'avversario contro di lui noi la nostra forza tra virgolette è l'ideologia pura e semplice folle gretina green che dall'altra parte ci stanno semplicemente rivolgendo contro tutto qui senti l'altro c'è l'altro grande malato d'europa a questo punto non ce n'è più uno solo ma c'è la francia no matteo restiamo con te intanto sì di malati nell'unione europea soprattutto di mente ce ne sono tanti questo è un manicomio a 12 stelle sì la notizia di questi giorni è il fatto che i titoli di stato francesi abbiano superato il rendimento anche quelli greci se non sbaglio sono arrivati al 3 per cento e questo in realtà secondo alcuni potrebbe portare al pericolo di un di un dell'arrivo di un governo tecnico a parigi non credo che avverrà mai per il semplice fatto che i francesi a differenza nostra hanno comunque un certo grado di difesa dell'interesse nazionale ovvero il golpe finanziario che noi abbiamo visto nel 2011 che è stato un golpe finanziario abbiamo tutte le prove di questo mondo che sia stato a tutti gli effetti un golpe finanziario in cui è stato abbattuto il governo berlusconi che per carità è sottoscritto non ha neanche mai sostenuto ma era un governo democraticamente sostenuto al suo posto e arrivò un certo mario monti che fece quella macelleria sociale di cui abbiamo accennato proprio in questa in questa puntata io credo che i francesi non non rischino questo perché comunque un certo grado ripeto dell'interesse nazionale continuano a difenderlo però è chiaro che questo governo che già si legge veramente con col 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 attac ma nemmeno ovvero quello di michelle barnier è che si è veramente ha una sentita una interessante come visione sta in piedi perché il vento soffia da tutti e quattro i lati questa è una bellissima è una bellissima immagine credo che dia veramente l'idea perché basta solo che il vento smetta di soffiare su uno dei lati che appunto questo governo vada giù e come avevo prima ascennato i primi ovviamente a prenderne come dire le a prendere il meglio di queste situazioni saranno le opposizioni in primis la le pen ovviamente la quale è stata esclusa diciamo dalla formazione di questa risicata maggioranza anche abbastanza imbarazzante se vogliamo e avrà gioco facile a denunciare quelle che saranno per forza di cose le politiche di austerità che sono già state previste e annunciate dall'attuale governo quindi ci aspettiamo dei bei terremoti sia in francia che in germania noi per chiudere cosa dovremmo fare forse smetterà di considerarci l'appendice morta a forma di stivale del blocco franco tedesco ma questo avremmo dovuto farlo molto tempo prima anche perché i francesi e i francesi poi si come dimostrano si si arrabbiano si incazzano e dopo si fanno si fanno sentire e anche se con risultati tutto sommato modesti perché è ma ma lì avevano anche la sfortuna che avevano uno che non si fa mica tanto intimorire come macrona mentre qui in italia oltre che insomma la pavidità anche tra i politici è abbastanza diffusa e gilberto sulla situazione in francia ma questa è una soddisfazione da un certo punto di vista perché oggi la stampa dominante si rende conto di cose che che noi raccontiamo da anni perché stanno nei numeri che differiscono dalla narrazione no come noi abbiamo raccontato per anni insomma che la germania non era e non poteva essere la locomotiva d'europa anzi seguiva questa politica dell'impoverire i propri vicini che prima o poi avrebbe presentato il conto così poi noi diciamo guardate che la francia da un punto di vista di conti interni ed esterni con l'estero sta messa molto peggio dell'italia ma non solo dell'italia di oggi noi ricordiamo cosa come stava messa l'italia quando arrivò monti no però se noi andiamo a vedere i numeri dell'italia prima del governo monti paragonati con quelli della francia di oggi beh ma l'italia all'epoca aveva un debito sia pubblico che privato perché poi non esiste solo il debito pubblico ovviamente esiste anche un debito privato che è peggio di quello pubblico che era del 240 per cento e spicci nel 2011 no come arrivò monti la francia oggi sta al 340 per cento ok l'italia nel 2011 veniva comunque da 18 anni di avanzi primari cioè di soldi sottratti all'economia ogni anno lo stato spendeva meno di quanto incassava 18 anni di avanzi primari sul 19 la francia viene da 22 anni di disavanzi primari se l'italia quando arrivato monti già aveva accumulato 890 miliardi di euro di avanzi primari quindi di soldi tolti all'economia la francia ne ha messi 1107 in più di miliardi nell'economia soprattutto l'italia è vero che l'unico vero problema dell'italia all'epoca di monti era la posizione con l'estero no c'avevamo una bilancia dei pagamenti importavamo più di quanto esportavamo ok però nel 2011 la posizione dell'italia era in passività con l'estero per 300 miliardi di euro che per carità non è poco beh la francia si avvicina ai 900 miliardi di euro quindi è ovvio che la situazione attuale della francia è è sicuramente il malato d'europa per altri motivi insieme alla germania e la francia di oggi è messa clamorosamente peggio di come era messa l'italia quando dall'unione europea gli viene imposto il governo monti con un colpo di stato bianco e ascolta in francia cosa faranno e non lo so perché il nuovo fatto di stabilità e crescita dice che la francia dovrebbe tagliare la spesa pubblica dell'uno per cento l'anno per quattro anni o del dello 0,6 per cento per sette anni c'è un consolidamento fiscale come dicono quelli bravi che poi sarebbe autorità maggiore di quella che fece l'italia sotto sotto monti e non lo so non so cosa faranno i governanti francesi però posso immaginare cosa possa fare il popolo francese non la prenderebbe tanto bene sì e non la prenderà tanto bene dici se gli proveranno imporre una cura da cavallo più o meno simile a quella che ci hanno sottoposto a noi con monti beh per molto meno io vi ricordo che ci sono stati anni di geleggialli in francia solo perché si parlava di riforma delle pensioni che comunque era più blanda della nostra riforma fornero se voglia dire francesi che gli imponi quattro o sette anni di austerità pesantissima e non lo so che succede in francia sì anche perché i geleggialli sono un'esperienza diciamo anche piuttosto recente però questi pochissimi anni che sono passati hanno cambiato le condizioni generali e quindi probabilmente manifestazioni e protesti quel tipo lì sarebbero in una situazione storica ambientale non solo in francia ma anche in resto d'europa diversa e potrebbe innescarsi questa volta sì probabilmente l'effetto domino e chiudiamo con tre quattro minuti sulla vicenda stellantis direi e le che ha licenziato il suo amministratore delegato il portoghese carlos tavarez matteo stiamo proprio sulla stretta attualità perché se dovessimo fare discorso su fiat potremmo fare tranquillamente una una mini serie diciamo video meriterebbe meriterebbe una serie tv horror su quello che è successo con la fiat del suo rapporto con lo stato italiano italiano e del tradimento ai danni dei lavoratori italiani perché poi si torna sempre lì il discorso è che anche qui non c'è molto di cui sorprendersi qualche puntata fa raccontammo appunto di quella che è stata tutti effetti un'acquisizione spacciata anche qui con una fusione cioè l'acquisizione da parte di psa di fca auto anche qui ovviamente la fiat si è guardata dal difendere i lavoratori italiani anche qui lo stato italiano si è guardato dal dal avere voce in capitolo a differenza di quello che è avvenuto in francia per questo dico che il pericolo di un governo tecnico in francia è ben più lontano rispetto a quello che è avvenuto invece in italia perché lì comunque un certo grado di interesse nazionale lo difendono ancora non è un tabù come quello che succede da noi la borsa in borsa stellanti si sta precipitando quello che quello che però dovrebbe preoccuparci ancora di più è che fine faranno i tanti lavoratori lavoratori italiani tanti stabilimenti italiani che già sono fermi e sono ai minimi storici ricordiamo che la produzione di vetture in italia dovrebbe stare intorno ai 300 300 mila unità quest'anno parlo ovviamente di stellanti ed è un livello che non si registrava degli anni 50 quando però le moli di insomma di riproduzioni erano ben diverse cioè in iniziavano certo certo in proporzione noi siamo veramente ai minimi ai minimi storici quindi purtroppo ecco anche qui la differenza la farà la politica così potrebbe potrei chiudere su questo la differenza la farà la politica mentre la francia si è premurata di essere presente al bordo del di stellanti come stato francese quindi di poter in qualche modo battere i puni sul tavolo lì invece lo stato italiano non c'è e quindi chi difenderà i lavoratori italiani chi difenderà gli stabilimenti italiani questa è una domanda cui purtroppo una risposta è anche facile da dare nessuno in questo momento ecco gilberto stamattina ero in in auto e sentivo appunto davano la notizia che a seguito di questa vicenda e per capire le intenzioni e di del gruppo diciamo qui in italia el can john el can è stato verrà chiamato a riferire in parlamento mi stavo per mettermi a ridere perché gli chiederanno come lo vuole il caffè stai e noi abbiamo aperto con un caso paradigmatico che partiva dal discorso della della chiusura della produzione della piaggio in italia che viene del tutto spostata in india e l'abbiamo usato come caso paradigmatico per parlare di una famiglia che è quella a capo della piaggio che la famiglia con la ninno ecco mi ha un senso questa chiusura perché è una chiusura di un cerchio cioè noi abbiamo aperto con una famiglia quella con la ninno che è l'esempio perfetto del problema di vincolo interno che ha l'italia che si aggiunge a quello del vincolo esterno e direi che gli el can gli agnelli el can sono in realtà il paradigma perfetto di questo problema che mette dentro tutti i problemi della classe dirigente industriale e politica perché il declino dell'industria automobilistica italiana è senza ombra di dubbio colpa degli agnelli slash barra el can con la complicità ovviamente clamorosa di tutti i governi di vari colori che hanno inondato di decine decine di miliardi di sussidi di aiuti diretti e indiretti la fiat senza mai pretendere nero su bianco garanzie sui livelli di produzione quindi occupazionali e dei sindacati che hanno fatto finta di niente quindi è il delitto perfetto dove tu hai tre autori principali il management cioè i proprietari gli agnelli el can lo stato che non solo ti ha dato decine di si parla di più di 200 miliardi di euro attuali negli ultimi 20 30 anni ma credo siano pesantemente sottostimati tra contributi diretti e indiretti e la cassa integrazione è un contributo è l'azienda che lascia a casa i lavoratori lo stato gli paga lo stipendio è un contributo e i contributi per gli acquisti delle macchine le rottamazioni e guarda potremmo andare avanti cosa che è normale in qualsiasi paese serio se vuoi tutelare un settore strategico ma a fronte di garanzie scritte nere su bianco qua nessuno contesta che si sia aiutato un gruppo industriale si contesta che si sia aiutato senza pretendere niente in cambio c'è la tutela dell'interesse nazionale lì chiaro e quindi mi sembra un esempio paradigmatico perfetto partiamone con la ninno e chiudiamo con gli annelli elkan insomma perché questi sono oggi perché è proprio l'esempio del problema dell'italia e mi piace a proposito di numeri voglio ricordare visto che anche oggi che sono usciti proprio in queste ore i dati sull'occupazione con la meloni che ancora una volta si vanta dei grandissimi risultati in termini di aumento dell'occupazione diminuzione della disoccupazione e vabbè magari uno potrebbe pure dire che nell'ultimo anno gli inattivi sono aumentati di 500 mila unità cioè di mezzo milione gli inattivi sono disoccupati che sono così scoraggiati che neanche cercano più il lavoro ma sono disoccupati e sono aumentati di 500 mila unità negli ultimi 12 mesi che non è proprio pochissimo e in più voglio dire che nei primi nove mesi di quest'anno cioè del 2024 sono state autorizzate 350 milioni di ore di ammortizzatori sociali cioè cassa integrazione prevalentemente che è un quarto in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e stiamo parlando ovviamente i settori più colpiti sono quelli del tessile della meccanica si tratta di 45 milioni di ore di lavoro perse da inizio anno che corrispondono a 232 mila lavoratori che non hanno lavorato neanche un'ora quest'anno per una perdita netta di reddito per i lavoratori di oltre un miliardo di euro sì perfetto guarda hai fatto proprio la chiusura del cerchio con iniziando con colaninno e terminando con el canna barra agnelli e poi con questi ultimi dati che rendono molto l'idea gilberto tromette naturalmente l'uomo dei dati ma rendono perfettamente l'idea siamo con in questa puntata che si sta che chiudiamo con questi con questa notizia io ringrazio molto gilberto gilberto trombetta grazie gilberto grazie a te carlo grazie ovviamente i nostri spettatori e grazie grazie a matteo brandi grazie matteo noi ci vediamo fra due settimane prego benissimo grazie a te carlo un saluto a gilberto a chi ci ha ascoltato fino a questo momento grazie grazie a tutti voi amici ascoltatori grazie a te carlo 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 grazie a te carlo